Beole, verde, green, verde davanti a me, sono la filosofia, è la filosofia dei segni, verde davanti a me, cos'è che mi snazzica, cos'è questo filo rosso, eccolo, eccolo della monnezza, è quello per chiudere la busta della spazzatura, e ora, punta la spazzatura, punta la spazzatura, dice un video molto bello, è un film con Nick Nolt, se non ricordo male, dove un coach la dice al suo assistito, punta la spazzatura, punta la spazzatura dal cervello, punta la spazzatura dalla tua mente, perché ci sta il sole alto in cielo, è settembre e va in giro in polo, è vero che ci vada anche a dicembre, però, questo è un gap positivo al nostro favore, e secondo te sto male, io non conosco nulla, se il check è ok, che possa limitare le mie prestazioni, la crisi esiste, esisteva, esisterà, la puoi affrontare, ti ci muovi dentro, vorrà dire che devi lavorare un po' di più, vorrà dire che dovrai usare un po' più l'ingegno, vorrà dire che i meno riusciranno a fare risultati, si tratta di essere dalla parte dei più che riusciranno a trarne un beneficio, perché da quando mondo è mondo, ci sono persone che sanno fare le cose, e ci riescono, e ci sono persone che sanno fare meno bene le cose, e ci riescono meno, si chiamano capaci e meno capaci, o incapaci dal volta, esistono, bisogna essere realisti, e secondo te sto male, io ho capacità, conoscenza e possibilità di movimento, ho tutto, secondo te sto male, non ho alibi, non ho autopie, non ho falsi problemi a cui attaccarmi, sono la mia voglia e la mia capacità di fare, sono in campo, il resto è chiacchiere, è fuffa, è alibismo snorchelista, parati, giostre e mal, non attacca, va a lavorare e non si rompe l'equione, bello per te, viva la live!